L'idea di premiare 100 storie che riguardano le life science, storie di successo, è un'idea molto importante perché è un modo di comunicare al Paese quanto è importante la ricerca nel campo delle scienze della vita in questo momento, quanto può dare e nella pratica di cosa si tratta e che cosa trattano i progetti che vengono portati avanti dai ricercatori, negli istituti della ricerca pubblica e privata in questo campo delle scienze della vita. Mi sento di dire prima di tutto che le scienze della vita rappresentano il nostro futuro, proprio oggi che veniamo da una pandemia che ci ha devastato e messo in crisi sappiamo quanto è importante l'investimento nelle scienze della vita perché dall'investimento delle scienze della vita nasce poi la trasformazione di scienza in tecnologia e quindi tutti i vaccini e i ritrovati, i presidi che ci permettono di sopravvivere alla pandemia e a tante altre cause di malattia. Quindi tutti quanti abbiamo imparato questa importanza, però quello che non abbiamo ancora imparato è che i frutti di oggi, i vaccini, i farmaci, le terapie, le strutture, sono il frutto della ricerca e dell'investimento nella ricerca fondamentale di ieri. Non possiamo pensare di abbreviare questo percorso che è un percorso fatto di sperimentazione clinica, di approvazione e dialoghi con i comitati etici, di agenzie di finanziamento pubbliche e private che sono interessate magari a problemi tematici, alcune sono concentrate sulle malattie neurodegenerative, altre sulle malattie cardiovascolari, molto specializzate. Le scienze della vita sono caratterizzate anche da un'elevata specializzazione, non si può fare tutto e bisogna concentrarsi su un problema e ci vogliono anni per fare le sperimentazioni cliniche che poi sono alla base dei casi di successo. Perché il caso di successo in medicina significa che una terapia, un medical device, cioè una tecnologia risultano appropriati, cioè appropriati significa che i benefici superano le eventuali conseguenze negative e che noi possiamo avere un elevato margine di rischio, anzi abbattimento del margine di rischio per poter approvare e applicare queste terapie nella pratica clinica. Quindi il primo obiettivo di queste storie di scienze della vita è lo sviluppo della scienza in tecnologia, quindi riuscire a sistematizzare i risultati. Il secondo passaggio è quello di provarli con i pazienti e quindi di riuscire a fare dei trial clinici nell'ambito dei requisiti di legge in accordo con i comitati etici che possano vederne una validazione, quindi le conseguenze della somministrazione di terapie o di nuovi farmaci. Ed infine il traguardo, dopo molti anni di sperimentazione, è l'appropriatezza di una terapia o di una tecnica e quindi poi la sua messa sul mercato. Noi in Italia abbiamo molti primati, come giustamente Simbola mette in evidenza, cioè siamo uno dei primi paesi al mondo nell'ambito della produzione scientifica in questo tema. Abbiamo un'industria farmaceutica molto forte, abbiamo quindi anche industria biotecnologica che nasce dalle nostre strutture di ricerca e le 100 storie life science che oggi verranno mostrate sono proprio 100 storie che riguardano questi casi di successo. Ricordiamoci che il mondo della sanità si sviluppa nei servizi sanitari ma ha bisogno di nuove terapie, nuovi farmaci, nuove tecniche e di nuovi dispositivi medici. I dispositivi medici richiedono una particolare attenzione perché devono avere un processo di certificazione e validazione che ancora non è così strutturato come quello dei farmaci. Lo stesso vale per i software che sono trattati oggi sulla base dei regolamenti alla stessa maniera dei dispositivi più tecnologici. Quindi il software e l'hardware vanno insieme, devono essere validati. Noi abbiamo partecipato come Consiglio Nazionale delle Ricerche a queste 100 storie e ci sono due istituti che hanno sviluppato dispositivi e sistemi che sono messi in evidenza e sono particolarmente orgogliosa di questo perché si tratta di sistemi di screening genetico o di nuovi dispositivi che vengono validati in sala operatoria per il monitoraggio dei pazienti. Questi sistemi sono sistemi che nascono appunto dall'aver investito a suo tempo in questi settori e spesso richiedono una collaborazione dei centri di ricerca come il CNR con IRCS, cioè istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui anche io stessa sono stata per un certo periodo direttrice che si occupano della traslazione, cioè la traslazione all'elemento che caratterizza le scienze della vita che dobbiamo traslare dai laboratori, per esempio del CNR, alla pratica clinica, quindi per esempio negli IRCS e sperimentare insieme ai pazienti i benefici e le caratteristiche di queste terapie. Io penso che per noi sia una scommessa sul futuro, continuare a investire nelle scienze della vita, abbiamo visto che dobbiamo sviluppare anche nella pubblica amministrazione e quindi nella sanità in modo adeguato la transizione digitale che sfrutta queste tecnologie, che sfrutta le piattaforme per portare dei servizi al cittadino. Per me è molto importante che la trasformazione digitale non riguardi soltanto l'entertainment o l'acquisto di beni online, ma riguardi i servizi che vanno in prossimità del cittadino, i servizi come l'istruzione e anche la sanità. Cioè riusciamo a sviluppare delle piattaforme per poter utilizzare questi strumenti che oggi vengono mostrati nelle 100 storie di successo per portare e raggiungere tutti i cittadini. Perché vorrei concludere questo mio intervento da bioingegnere con uno dei paradigmi della bioingegneria. La bioingegneria si ripropone di portare dalla ricerca di base fondamentale al paziente, che sia a casa, che sia in ospedale o che sia in una struttura, i ritrovati della tecnologia e della scienza, ma si propone di farlo in modo accessibile a tutti. Non ha senso curare pochi. Nella deontologia del bioingegnere c'è arrivare a tutti i cittadini. E questo, proprio in questi giorni che discutiamo della proprietà intellettuale dei brevetti sui vaccini, è un argomento molto importante.